L'unità del centrodestra è fondamentale anche nelle amministrative in città. Vietato disunirsi. Francesco Rucco guarda alle elezioni per il presidente della provincia e pensa alle amministrative di primavera. Oggi Nicola Ferronato, sostenuto da una coalizione formata da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Azione, Italia Viva, Civici di Renzo Marangone e Coraggio Italia, è stato inaspettatamente battuto dall'outsider Andrea Nardin, alfiere di Partito Democratico e dei civici del sindaco di Schio, Walter Orsi. Però non dappertutto. Per esempio, nell'area berica, dove Andrea Nardin è sindaco di Montegalda, ha vinto Nicola Ferronato. Invece, nell'area est della Pedemontana, quello che doveva essere un plebiscito per Ferronato, si è trasformato in una sonora sconfitta, con la Lega che si è spaccata tra fazioni opposte e Fratelli d'Italia che si è divisa tra correnti guidate da tanti, troppi profeti. Ma non a Vicenza, dove il centrodestra, invece, è rimasto compatto. I dati dimostrano che il centrodestra sulla città è rimasto compatto, anche nei comuni con termini, quindi quello che è il cosiddetto collegio numero uno del centro storico delle provinciali. Sull'Alto Vicentino, sul Bassanese, le cose sono andate diversamente. Oggi Francesco Rucco, candidato civico, senza tessere di partito, con la sua lista Idea Vicenza, che alle ultime elezioni è risultata la forza politica più votata in città, punta a conquistare altri cinque anni da sindaco, forte anche dell'appoggio di Fratelli d'Italia, di Lega e di Forza Italia. Un centrodestra che a volte sembra soffrire di masochismo politico, come alle ultime amministrative di Verona, dove si è presentato spaccato, o nella sfida per la presidenza della provincia di Vicenza, dove divisioni, protagonismi e franchi tiratori hanno prevalso. Ma attenzione, a differenza delle elezioni provinciali, alle amministrative votano i cittadini, meno disponibili a seguire trame e intrighi di partito. Le amministrative sono un'altra partita, votano i cittadini, questo è fondamentale. Non ascolteranno le sirene magari più politiche, più partitiche. Io credo che i partiti debbano restare uniti, compatti, su un progetto civico che ha dato grandi risultati e grandi soddisfazioni.